Ho deciso di uscire dal Movimento 5 Stelle e di continuare a prestare la mia opera insieme al Consiglio Comunale, passando al gruppo misto di minoranza. Difenderò il diritto alla salute insieme a comitati e associazioni. Con queste parole scritte in una lettera, Lisetta Sperindei, 73 anni, eletta nel 2019 in Consiglio Comunale nei 5 Stelle, dopo 10 anni di intenso attivismo politico nel gruppo del Movimento Pesarese, dall'addio ai pentastellati. Tra le motivazioni che l'hanno portata a questa scelta, ha spiegato Sperindei, ci sono le inversioni di programma su temi scottanti e più rilevanti che il Movimento steggiava e che ha continuato, provocano grande delusione in chi aveva creduto nel Movimento 5 Stelle delle Origini, nato per difendere i diritti dei cittadini. Dal Notav, che è diventato C-Tav, era rimarcato tempo fa anche il Presidente Conte, solo perché non possiamo rinunciare ai soldi che ci vengono dall'Europa. Il TAP è già stato completato in pratica, nonostante che avessimo combattuto così tanto. La goccia che ha fatto traboccare il vaso e che ha spinto Sperindei a lasciare i pentastellati è stato proprio il sì del Movimento al Green Pass. La certificazione verde, ha spiegato Sperindei, limita tantissimo le libertà fondamentali di cui il cittadino ha diritto. Tutte queste imposizioni che ci vengono fatte con l'alibi di una pandemia che in realtà è curabile, per la quale nonostante tanti medici avessero detto che non andava bene vaccinare durante la pandemia, durante questo contagio, e invece le vaccinazioni sono state fatte in contrasto con il benessere per i cittadini. Questo Green Pass attuato in Italia è del tutto diverso da quello che aveva concepito l'Unione Europea, che era semplicemente per facilitare la mobilità dei cittadini, lo spostamento. Qua invece è diventato uno strumento di coercizione per costringere, per indurre la gente a vaccinarsi, anche chi non è disposto a farlo. Non siamo contro i vaccini, siamo contro l'obbligo, siamo per la libertà di scelta, ognuno deve avere il diritto di scegliere. Io leggevo anche nel giornale di oggi, per esempio, che il contrario a questo vaccino non dovrebbe essere curato, non dovrebbe avere diritto alle cure, se le deve pagare da solo. Io ricordo che nel pacchetto delle sigarette c'è scritto che il fumo può uccidere, eppure noi curiamo, nella nostra sanità, curiamo anche le persone che si ritrovano con un tumore per colpa del troppo fumo. Allora, se la procedura è questa, anche quelle persone lì non dovrebbero essere curate. Quindi, pretendere che se uno che è contrario alla vaccinazione, poi si è male di Covid, non si deve curare, è una cosa talmente anticostituzionale e antidemocratica che è proprio penusa.